Ti ha ferito di più? Ma sai, mi sono svegliata innanzitutto la mattina, ho fatto colazione, quindi ero ancora abbastanza rito. Anche la mattina prima ti sei svegliata e fatalità mi hai dato degli acchè dopo mezz'ora. Sta parlando con me, non con te. No, no, sta parlando con tutti quanti. Quindi parla quando vieni chiamato in causa. Allora, cominciamo. Quindi mi sono svegliata, appena sveglia, ho fatto la colazione, sono uscita fuori a fumare una sigaretta, come voi avete visto, e mi ha iniziato a inveire, poi qua c'è un sunto ovviamente, ma chi ha guardato il 24 ore, può aver visto tutto quanto, tutta la situazione. Ma guarda, se vuol parlare lui, parli lui, io non parlo. Non parlo, non cominciare con la storia del parla parla, cioè, non sa mai niente. Vai. Eleonore però ti ha inveito contro perché hai immuginato su un termine con il quale tu l'avevi definito. Perché tutto è partito da un periodo di tempo, da un po' di tempo tanto, che ci sono alcuni atteggiamenti ambigui. No, non sono ambigui, sei tu che hai la fissa, che a te non ti va bene e pensi sempre male perché hai questo carattere, sei fatta così. Gli ultimi, qualche giorno prima, uno o due giorni prima forse era una, ci trovavamo nel garden, c'era anche Gabriele. C'era anche Gabriele. E la Valeria, a un certo punto è venuto fuori il fatto di derrussare, diciamo così. Non dire cose. Ma scusami, ma se l'hai presa in giro la sera prima, ma perché adesso minimizzi di fronte a lei? Allora devi avere il coraggio di dire le cose come stanno. Ah, quello è il problema, perché quello è il problema, perché gliel'avevo già detto a Valeria. Però io voglio fare un'osservazione a Lenuar Casalegno. Tu non puoi pretendere di andare avanti una settimana a scassare i cosiddetti zebedei e poi non avere reazioni.